E' sempre la stessa storia, basta, smettila, ti prego vattene! Basta! Ma io ti ho detto vattene, non ti voglio parlare, vattene, ok? No, sei... Cosa? Vai, va, vai! Ma vaffanculo! A quel punto Stefano guardò dolcemente Flavia e le dimostrò di aver capito i suoi problemi. Lui era un bravo ragazzo, uno di quelli che non esistono più. E non voleva approfittarsi di lei e delle sue debolezze. Le sorrise, fece un discorso comprensivo e le cose stavano andando esattamente come dovevano andare. Aia! E quest'altra perché cos'è? Raccolto la mia vita a un sacco di persone, però nessuno mi aveva mai ascoltato come hai fatto tu. E quindi ho un ex fidanzato molto fastidioso. Ah, è uno di quegli ex fidanzati che picchia tutti quelli che ti parlano? Dipende, picchia solo chi è interessato a me. Sì, io sono molto interessato a te. Sto fisso di te. E se no, è che sembra proprio che c'è un gran bel culo. ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.